Siamo con Maria Cogoireggio, presidente dell'Associazione Basket Tolentino. Si terrà al Palachiarici di Tolentino dal 10 al 12 maggio prossimi il concentramento di semifinale del campionato nazionale Under 17 di basket. Di cosa si tratta? Si tratta di un appuntamento che noi ripetiamo ogni anno con molto piacere, ospitando otto squadre. In questo si tratta di otto squadre. Tempo fa venivano solo quattro, quindi abbiamo raddoppiato la presenza e siamo molto contenti, anche per Tolentino, perché significa muovere per quattro giorni più o meno 300-400 persone, anche negli alberghi. Io spero che questo funzioni, anche perché è promozione per il basket, promozione per la città. Le squadre sono di tutta Italia, sono rappresentate in tutta Italia, dalla squadra di Reggio Calabria alle due squadre di Venezia, Ferrara, Val di Ceppo, Siena. Sarà una bellissima festa di gioventù. E siccome è un evento gioioso, perché lo sport questo dovrebbe fare, noi invitiamo tutti. Tanto l'ingresso è assolutamente gratuito, la manifestazione è giovanile, quindi invitiamo tutti a venire al palazzetto a godersi un bello spettacolo, veramente. Dello sport ancora quello che non si è contaminato, perché è ancora fatto da ragazzi che lo fanno con passione e sacrificio. La manifestazione comincerà venerdì, venerdì cominceranno le partite molto presto, perché abbiamo questo problema di sovranumero molto consistente di atleti. Cominciano alle 1.30, però la presentazione ufficiale di tutte le squadre, con la presenza dell'autorità, del Presidente regionale della FIP e di tutti gli addetti, sarà alle ore 17, 17.15. Penso è stato invitato e sicuramente presenterà il sindaco e l'assessore allo sport e spero anche in una presenza almeno di giovani, che a quell'orario lì sicuramente purtroppo non sono al lavoro. Per quanto riguarda poi la prosecuzione, questa è solo la semifinale, ma le marche sono state premiate anche quest'anno perché ospiteranno la finale a Civitanova e Porto Sant'Elpidio fra pochi giorni, penso a una distanza di 15-20 giorni e saranno le prime due di ogni girone di Tolentino, le prime due accederanno alla finale. Quindi sarà una gran bella festa con tanta gente giovane e appassionata e invito tutti i tolentinati a seguirci.